20 minuti perché l'infertilizzano. Io sono veramente onorato, fra l'altro Giorgio mi aveva indicato la diapositiva di Bologna. Abre un po' perché non mi lascia bene, non mi lascia bene. Bologna? Abre un po' perché non mi lascia bene. Bologna 2. No, ci siamo. Bologna 10 settembre, Bologna 10 settembre 2003, no? Abre un po'. Abre un po'. Vai. Qual è? Allora, diapositive, scelgo in pari. Ma io te l'ho messa quella. Questa è la tua. No, no, questa è. Ma te l'avevi già caricata lì. L'avevi ricaricata già. L'avevi ricaricata già. L'avevi ricaricata già. Non so perché non l'avevi ricaricata. Abre un po'. Bologna. Bologna. Allora, io volevo ringraziare Giorgio per avermi dato anche la possibilità di fare questa lezione magistrale sull'infertilità, ma devo dire che sono emozionato. Io vi farò vedere dalle diapositive come anche Sergio Stagnaro mi ha condizionato e sto facendo proprio un dottorato in biologia dell'evoluzione ed ecologia presso l'Università Torbergata di Roma proprio sull'adattamento. del mitocondrio agli stress ambientali. Un attimo. Ok. Che è successo? Oggi proprio, va, non devo partire. Ok. Quindi vedete che vi parlerò di un argomento che fa riferimento in particolare alla prevenzione pre-primaria, almeno nella parte che riguarda il sistema di residenza. Allora, questo è un ricordo di Sergio proprio di alcuni anni fa, dove eravamo nella hall di questo albergo, mi parla di 2019, entrammo immediatamente in confidenza. Io, fra l'altro, poi in quel giorno, senza neanche conoscerlo, avevo preparato il ruolo della medicina mitocondrile della corretta ossigenazione per contrastare l'infertilità e i danni al inquinamento. Lui seguì il mio intervento, dopo di che poi ci siamo sentiti e mi ha dedicato una manovra, la manovra di Montano, che ovviamente non conosco, la conosce bene Siniscalchi, ha detto che è una manovra complessa ma si può fare, per cui io certamente dovrò impararlo, tant'è vero che mi sono già impegnato con il dottor Siniscalchi. E fra l'altro il mitocondrio è il target principale di tutti i tossici ambientali, cioè il primo elemento cellulare che viene interessato da un insulto tossico è proprio il mitocondrio, e in particolare il DNA mitocondrile, che a differenza di quello nucleare è molto più sensibile e fra l'altro, diciamo così, vi dirò più avanti appunto quello che vi stavo dicendo. Io sto facendo dal 2020, dopo l'incontro con Sergio Stagnaro, mi sono iscritto all'Università di Roma, io sono già un medico, sono un andologo, quindi ho la mia clinica, faccio quindi attività andologica da circa 30 anni, però ho detto fammi, diciamo così, ritornare e fammi andare a studiare bene sto mitocondrio, effettivamente come risponde. E ho vinto un bolso di dottorato all'Alto Ormergata e sto facendo appunto una tesi sperimentale, con risultati che vi posso quindi assicurare già molto incoraggianti, e che fanno quindi capire come ulteriormente lo spermatozoo, che è un po' la base diciamo di tutto questo lavoro, è la prima cellula che viene ad essere interessata da tutta una serie di stress, è l'antenna, è la sentinella della salute ambientale generale, è il mitocondrio, è l'organello quindi principale. Quindi potrei dare una mano, ieri parlavamo con Stine Scalchi, a quell'annesso biologico, a quella diciamo così prova clinica sperimentale, che abbiamo diciamo così sotto tempo, vi faccio vedere, lo sto facendo nella tesi, non dovrei farlo vedere, ma vi posso assicurare che i risultati vanno nella direzione appunto di seggio stagliare. Ecco lo spermatozoo sentinella, abbiamo una fase diciamo così di danno, e una fase di resilienza, ecco la terapia ristrutturante, cioè in qualche maniera un collegamento cominciamo quindi a crearlo. Io opero attraverso una rete, questa è una unica, penso a livello internazionale, io sono un medico ospedaliero, ho ideato e coordino un progetto, cioè c'è un progetto sistematico di biomonitoraggio che stiamo conducendo nelle zone in particolare a rischio d'Italia, quella più alta in parte ambientale, e abbiamo quindi la fortuna di avere ricercatori che hanno di qualsiasi università, di centri di ricerca avanzati, da CNR, sicuro superioresanità, diverse università, che collaborano e ci sono agronome, ci sono biofisici, ci sono avvocati, ci sono giuristi, perché questa è la direzione dunque del progetto di ricerca che va verso la One Health, che è molto conosciuta. Allora, questa è un po' una rappresentazione di come gli inquinanti agiscono sul pianeta e come questo è possibile misurarlo attraverso l'esposomica, quindi attraverso la valutazione di biomarcatori di esposizione, misurare le quantità di questi tossici e la qualità all'interno di essuti e dei fluidi e come valutare negli effetti, sempre attraverso i biomarcatori e lo sperma è un biomarcatore ideale. Questa è la situazione nella quale viviamo, una ragazza frustrata, stress inquinanti chimici e fisici e come dobbiamo resistere, perché di fronte praticamente a questa pressione dobbiamo resistere all'impatto ambientale. Queste sono una serie di sostanze che ritroviamo dunque nel nostro corpo, PCB, diossine, che passano attraverso le vie aeree, la via alimentare, la via termica, sono gran parte di questi interferenti endocrini, quindi alterano i sistemi cellulari e di questo penso che conoscete bene, ma gli effetti di questi interferenti sono quelli che vedete qui e in particolare io mi occupo di effetti transgenerazionali, cioè dove stiamo andando? Io mi sono occupato da poco, da due anni, di micoplastiche, queste sono appunto, fra l'altro quest'anno è stata, la giornale dell'ambiente è stata dedicata proprio alle micoplastiche proprio dal 6 giugno e vedete che ormai si parla molto dunque di questo argomento. Le micoplastiche hanno queste dimensioni, vedete quindi il PM10, il particolare 10, quindi 10 micron, ma fondamentalmente hanno una dimensione da 0,1 a 5 micometri. L'abbiamo quindi cominciato a valutare, abbiamo fatto una pubblicazione nel 2021, dove sono più presenti, in particolare nelle zone del sud-est asiatico, nei mari, ma in pratica inquinano tutti i bacini idrici, attraverso la via aerea, attraverso l'ingestione, attraverso la via dermica e possono quindi comportare tutta una serie di alterazioni, stress ossidativo, alterazioni mitocondriali, disfunzione lisosomiale, genotossicità. Questo è il primo lavoro che abbiamo pubblicato nel gennaio 2023. Siamo stati i primi al mondo a scoprire la presenza di micoplastiche nelle urine. L'abbiamo pubblicato su Toxics, su 6, diciamo queste sono le micoplastiche con un sistema che è la micospettroscopia Raman. È stato fatto il giro del mondo questo articolo, è stato il primo pubblicato e quindi ha visto la presenza di micoplastiche. Ma come ci passano queste micoplastiche? Ci passano attraverso la via tubulare, di fisica passano attraverso la via glomerulare che è troppo selettiva e quindi per meccanismi, diciamo così, di micopinocitosi passano dalla cellula, dunque nel tubulo renale e poi dall'esterno, dal comparto vascolare passano attraverso questi meccanismi endocitosici all'interno dunque del canale tubulare, quindi nelle urine. E poi questo l'abbiamo pubblicato da poco. Abbiamo scoperto anche per la prima volta la presenza di micoplastiche nello sperma umano. E in più abbiamo praticamente valutato come queste micoplastiche passano. Passano molto più probabilmente, sempre per una questione dimensionale, attraverso l'epididimo, molto pascolarizzato, e le vescicole seminali e la prostata. Perché sono le strutture, fra l'altro, che più vanno incontro a processi infiammatori, quindi maggiore permeabilità e quindi più facilmente passano attraverso questo... Stai un po' d'acqua. Attraverso questo... un po' d'acqua. Attraverso appunto questo sistema. Questa è la caratterizzazione, diciamo così, le micoplastiche, così come vedete in questa pubblicazione molto importante, stanno chiamando da tutto il mondo per convegni per descrivere questa situazione, è stata scoperta ultimamente addirittura nel tessuto cardiaco, ma la cosa interessante è che queste micoplastiche erano più presenti in quantità maggiori, poi vi vedete la pubblicazione, in soggetti che avevano un'alterazione maggiore della qualità del libro seminale, addirittura quattro micoplastiche erano presenti nell'unico soggetto azospermico, cioè senso spermatozoico. Quindi in qualche maniera, vedete, considerate che le micoplastiche, al di là del loro effetto diretto, quindi i polimeri hanno un effetto diretto, portano con sé pesticidi, diossine, metalli, cioè fanno da carriè a queste sostanze. Quindi non solo da sole hanno un effetto, ma trasportano altri tossici che sappiamo essere particolarmente importanti in termini di tossicità sulla fertilità. Questi sono un po' una carellata di alcuni studi che indicano come gli inquinanti hanno un'azione negativa sull'apparato riproduttivo. In partire da questa review del 2022 indica come tutte queste sostanze, ovviamente anche il cattivo di vita, ha un'azione negativa sulla qualità del libro seminale, ma come questo è possibile, diciamo così, con buoni stili di vita, migliorare la qualità seminale. Questa è una review recentissima del 2022. Ma ovviamente gli inquinanti hanno un'azione negativa sull'apparato riproduttivo, quindi femminile, quindi abbassamento dei livelli di estradiolo, riduzione della quota dei follicoli antrali. Vedete ancora come appunto il particolato atmosferico ha un'azione negativa sulla riserva ovarica. Questo è un lavoro del 2021 nelle zone dove maggiore è l'inquinamento atmosferico, vi è una maggiore abortività e quindi una perdita di gravidanza. Ancora questo è un altro studio del 2022 danese, che pure quindi conferma appunto la riduzione della fecondabilità legata all'inquinamento atmosferico, quindi in pratica ci sono addirittura questo, la stessa fecondazione in vitro, in pratica, in condizioni di inquinamento, ha diciamo così, dei risultati diciamo così peggiori. E così ancora questi qua. Questo invece è uno studio che abbiamo pubblicato appena due anni fa sulla PSA. Il PSA nessuno sa che, o meglio, neanche i ginecologi lo sapevano, che l'hanno anche le donne. Sapete da chi viene prodotto il PSA nelle donne? C'è qualcuno che conosce la ginecologa? Non lo sa. La ginecologa di skin. Comunque, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che un nostro ricercatore del studio di sanità in vitro aveva visto che dando degli stimoli su cellule prostatiche degli inquinanti, induceva un aumento dei livelli del PSA in vitro. Ho detto, vabbè, prendiamo delle donne di due aree ad alto e basso impatto ambientale, perché noi facciamo questi studi, che poi vi dirò, fra zone ad alto e basso impatto ambientale, prendendo soggetti sempre omogenei, stessa età, stessa indice di massa corporea, quindi, e abbiamo preso donne della zona della cosiddetta terra di fuochi, io fra l'altro sono di Acerra, quindi sto nell'epicentro della cosiddetta terra di fuochi, ma lavoro, fra l'altro, in una zona qua, io lavoro qui, io abito qua, ma lavoro qua, ogni giorno mi faccio questi 100 km, e quindi ho la possibilità di reclutare di qua e di là. Abbiamo preso queste donne, tutte, diciamo così, della stessa età, abbiamo misurato i livelli di PSA e in tutte le fasi del ciclo abbiamo visto delle differenze statisticamente significative. Nelle donne che vivono nelle zone ad alto impatto ambientale vi è un aumento del PSA, per cui, come vi farò vedere, il seme rappresenta un indicatore estremamente sensibile appunto di salute ambientale e di condizione appunto di stress ambientale delle persone che vivono in certe aree, poi vi dirò, anche questo è un biomarcatore possibile per la valutazione di impatto ambientale, quindi molto precoce. Qua abbiamo visto sempre le differenze fra le due aree in termini di presenza di bisfenoli all'interno dei fluidi follicolari, donne sottoposte a femminazione assistita, siamo andati a misurare i bisfenoli all'interno di queste donne sottoposte a PMA, delle due aree sempre differenze, bisfenolo non per via alimentare, bisfenolo per via aerea, perché le plastiche rilasciano comunque bisfenolo aereo, considerate che quella è un'area ad alto impatto ambientale, la conoscete un po' tutti quanti, ma quindi questa roba viene areata e quindi in qualche maniera la ritroviamo addirittura nei fluidi follicolari, questo lo stiamo pubblicando ora su Environment Pollution, penso la prossima settimana lo sottometteremo, l'abbiamo presentato l'anno scorso al congresso mondiale di riproduzione umana, lo stesso per il PCB, sempre maggiormente PCB all'interno delle... Comunque, va bene, andiamo avanti, ora voglio cercare di cogliere il tema sulla questione delle questioni, allora la gran parte degli interferenti endocrini, o dunque delle sostanze tossiche, ha un'azione antiandrogena, quindi è tutto a sfavore del maschietto. Questo è uno dunque dei primi studi che dimostra come effettivamente l'apparato riproduttivo rappresenta un target ideale degli effetti degli interferenti endocrini, è il coccodrillo famoso del ligatore del lago Apopka. Questo studio quindi ha dimostrato che ha fatto la comparazione fra coccodrilli del lago Apopka e i coccodrilli di altri laghi non inquinati dello stesso stato della Florida. Nel lago Apopka, lago inquinato, vi erano pochi coccodrilli maschi, quei pochi che c'erano avevano bassi livelli di testosterone, pene piccolo, testicoli piccoli e ovviamente cattiva qualità del seme. Quello che stiamo vedendo oggi nei ragazzi è sempre più, è questo, ce ne abbiamo, una riduzione, diciamo così, della dimensione testicolare, una riduzione, un allungamento degli arti, quindi in qualche maniera questi interferenti, queste sostanze ci stanno biologicamente trasformando, oltre al cambio climatico. passo direttamente a questo qua. Se l'andamento è quello là che stiamo vedendo con l'aumento delle temperature, noi fra poco non avremo più tempo, cioè la specie umana non ha il tempo di adattarsi e possiamo quindi anche solo per il caldo estremo arrivare, diciamo così, ad una massiccia infertilità, solo per il caldo, togliamo gli inquinanti da mezzo. quindi tra pochi anni, se le cose continuano così, non avremo il tempo di adattarci e quindi potremmo finire, appunto, fra virgolette, arrostiti, perché prima ad essere arrostiti sono proprio gli spermatozoi. Il varicocele è la forma più frequente, diciamo così, di infertilità, quindi alterazioni del circolo venoso a livello testicolare, sapete che gran parte dunque i soggetti hanno problemi di qualità spermatica e quindi là è un esempio clinico del caldo che fa male. I pizzaioli che stanno molto vicino ai forni hanno praticamente molti più problemi di fertilità, ma comunque i cattivi stili di vita hanno un effetto negativo sulla qualità spermatica. Ancora dunque le onde elettromagnetiche inducono alterazioni e rotture del DNA spermatico, junk food, tutto questo in qualche maniera appunto ha un effetto ovviamente sui gameti e i gameti portano le alterazioni. Detto questo, io devo arrivare semplicemente verso la fine in maniera molto rapida, lo spermatozoi rappresenta appunto una cellula estremamente sensibile agli stressi ambientali e qual è la situazione? Cominciate a guardare qua perché fra poco finisco, dovevo tagliare. Negli ultimi 70 anni questo è il declino del numero degli spermatozoi nei paesi occidentali. Guardate la linea come va verso il basso, 2040, 2050, 60. Questo è l'andamento nei paesi occidentali. Questo negli ultimi diciamo, quello negli 70 anni, questo negli ultimi solo dal 73 al 2011, sempre nei paesi occidentali abbiamo una riduzione del 52.4%. Questo in poco meno dunque di 30 anni di 15 anni, il 30% di riduzione in Cina e sapete la Cina che tipo dunque, soprattutto negli ultimi anni, che tipo di inquinanti e di inquinamento ha. E questa è una carrellata di tutto quello che ho visto diciamo nel mondo che riguarda il calo continuo e progressivo diciamo così della qualità spermatica. Questo l'ho pubblicato nel 2021 dove parlando dunque il SARS-CoV, vedevo effettivamente come si riduceva in maniera importante anche in altri paesi e in particolare guardate l'Africa 2021. Nel 2022 e forse l'avete visto in televisione comunque è uscito questo report mondiale. Questa è una pubblicazione che fa riferimento a tutto il globo, cioè l'andamento della qualità dello sperma. Vedete dal 1973 al 2018, quindi più aggiornato su tutto il globo, quindi considerando anche i paesi del sud del mondo, Africa, Asia e Brasile, una riduzione importante della qualità del numero di spermatozoi, con un raddoppio della perdita di spermatozoi dal 2000 al 2018, doppia rispetto agli anni dal 73 al 2000. Quindi che cosa sta succedendo? Si sta degradando in maniera sempre più massiccia. Volevi pensare in Africa, questo è stato pubblicato nel 2023. In Africa, in Nigeria che è il paese più popoloso e anche il più inquinato dell'Africa, abbiamo praticamente in soli 10 anni una riduzione della motilità del quasi 80%. Questo andate a vedere su PubMed e vi vedete. In Africa, quindi gli africani fanno i figli. Il tasso di fecondità si sta riducendo in maniera sempre massiva, ancora quindi in Cina. Questo è lo studio che stiamo facendo un po' nelle zone ad alto impatto ambientale, considerando le aree rosse, sono quelle dove noi campioniamo con il sistema. Queste sono alcune pubblicazioni dove abbiamo visto le prime differenze in termini metalli pesanti, alterazione liquido seminale, fra due popolazioni che vivono in zone anche poco distanti, pubblicate negli anni. Queste sono altre pubblicazioni che vediamo sempre le stesse cose, dove lo sperma rappresenta effettivamente, questo l'abbiamo pubblicato l'anno scorso, sulla presenza di metalli pesanti nel seme e nel sangue in tre aree d'Italia. Allora, questo è quello che sta succedendo in Italia. Abbiamo pubblicato nel 2021 con un progetto finanziario del Ministero della Salute in Brescia, terra dei fuochi e valle del sacco. Questo è al tempo zero. Ragazzi, omogenei perità, non fumatori, non bevitori, non esposti, cioè sani, praticamente abbiamo che la media del numero della motilità, 27.75%, cioè in pratica al di sotto dello standard che è il 30%. E stiamo a 19 anni. Sani, non fumatori, non bevitori, con lo stesso indice massacropoli. Questo è al tempo zero. Aprile 2023. Questo è il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sto per finire, dove abbiamo praticamente una presenza, una prevalenza, che loro dicono il 17.5% al mondo. Guardate che la situazione è molto peggio, perché questo report non ha considerato alcuni paesi popolosi come l'India, il Brasile, il Bangladesh, l'Africa, dove c'è il calo peggiore, ha considerato solo l'infertilità femminile, non l'infertilità maschile, che è quella prevalente. Quindi la situazione è molto peggio rispetto. Questo invece l'ho pubblicato nel 2021, dove ho messo insieme come il Covid. Lasciamo stare la parte vaccinale, che là stiamo facendo un altro studio e neanche stiamo messi bene. Ma comunque, insieme agli inquinanti, hanno un'azione sinergica nel far sì che questo calo che abbiamo visto sarà ancora peggiore. Cioè la curva che sta scendendo sarà ancora peggiore. Questo sta in pubblicazione, è un libro che ho scritto col professor Cavanna, Gabriele Malvigi Montano, sarà in pubblicazione nel 2018, dove mettiamo insieme al fatto che l'air pollution, il Covid, in maniera sinergica, aumenteranno e accelereranno l'infertilità maschile e anche ovviamente aumenterà il tasso di patologie croniche degenerative, in particolare tumorali. Sto finendo, guardate che la popolazione mondiale ha 8 miliardi, siamo arrivati a 8 miliardi e 50. Ci sarà ancora un po' di crescita. A breve la crescita comincia a scendere. Perché è il fattore biologico quello che comincia a avvenire meno. Il fattore biologico è la fertilità. Non possiamo più riprodurci come una volta. questa è la situazione in Italia, dovete sapere perché molti non la conoscono. L'Italia è uno dei paesi a più bassa natalità al mondo, quart'ultimo al mondo. Il numero di figli è 1.24, al di sotto del 2.1 non c'è più ricambio della popolazione. Cioè, in pratica diventeremo a breve la metà. Questa è una manifestazione che sta. Noi faremo una manifestazione proprio nei borghi, nei borghi d'Italia. Perché sono queste aree periferiche, aree interne, che soffrono maggiormente il problema di denatalità. Lancet è il 2.100. Una riduzione della metà della popolazione. Se arriviamo al 2.100, eh? Se arriviamo al 2.100, perché cambiamenti climatici, infertilità e tutto, probabilmente forse non ci arriviamo. Quindi, in pratica, devo fare altre depositi, ma chiudo con questa. Questo è quello che potrebbe esserci nel 2019. Cioè, prima della pandemia, prima di tutto questo, Johansson aveva appunto previsto che se non si ferma l'impatto ambientale, quindi chimico e fisico, avremmo una, diciamo così, sterilità massicce, quindi la fine della specie entro le prossime cinque generazioni. Questo è anche troppo ottimista. Arriviamo al 2.070, secondo i calcoli miei e di altri quattro al mondo. E stiamo finendo. Vabbè, qua pagliamo dunque gli effetti transgenerazionali. Voglio solo dirvi il perché succede tutto questo. Quindi, importante la pensione, poi primaria, i gameti. Dicevano i francescani che per fare figli sani, sei mesi prima, invitavano le coppie ad andare o al mare o in montagna e mangiare bene. Quindi, parliamo del 1600. Perché succede tutto questo? Questo è un esperimento che dovete mettervelo in testa, così. Cioè, al di là delle malattie e quindi delle insulti nella fase embiofetale, quindi durante appunto lo sviluppo del feto, che è lì che si gioca la partita e quindi i primi mille giorni. Noi stiamo dicendo qualcosa altro. Questo esperimento su Plus Genere dice che un'alterazione sui gameti, quindi già gameti formati, può determinare quindi degli effetti, non solo cumulativi, ma in pratiche esponenziali. Cioè, se tu sei esposto, nonno, a una sostanza 100, il nipote a quella stessa sostanza, in quantità del 25, risponde tre volte tanto. Cioè, io le speranze non le vedo. Questo è il motivo per cui avremo un'esplosione ancora continua di malattie croniche degenerative e un calo progressivo importante della fertilità. Mi fermo qui perché... Grazie. Grazie. Allora...